o andrea stacca la stacca stacca che discutiamo con gli amici che se no è maleducazione ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono sempre fabrizio e quest'oggi siamo a casa di andrea il nostro amico andrea che ormai penso che tutti lo conoscono allora andrea intanto grazie mille per averci ospitati perché non sono da solo ma con tutta la piccola famiglia e penso che c'è il quarto in arrivo e questa volta lo metterò giù io perché qui in romagna in emilia in emilia si mangia da dio un saluto ai romagnoli a tutti allora quest'oggi faccio facciamo questo video insieme ad andrea uno perché sapete benissimo che andrea è uno dei miei migliori amici e grazie a questo mondo fantastico della simulazione ci siamo conosciuti e sono tre quattro cinque volte forse che ci vediamo dal vivo ogni volta è un grande piacere e non posso che non saltare sull'occasione per sfruttare l'immagine del grande andrea per per discutere con voi di quello che è la simulazione oggi andrea dopo due anni di stop si è ricomprato un volante ha preso un t300 rs pausa di 300 rs alcantara con il 500 il volante la ruota della 599 xx l'ho provato i sensazioni sono spettacolari e in più il cambio th8 rs giusto? sì 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 eh micchia gli espertoni che sai aspetta che guardo la scatola! la sua configurazione è molto molto bella a me piace perché si è messo uno schermo incurved davanti più uno schermo accanto un po più piccolino e in attesa di rifarsi la postazione perché prima c'era una postazione home made giusto? con il cockpit della formula 1 se riusciamo a trovare qualche foto magari la mettiamo su però si è installato bene anche se temporaneamente per riprendere un attimino quella che è una delle sue grandi passioni le auto e quindi la simulazione di auto quindi oggi mi stava rifacendo scoprire iRacing che io avevo abbandonato tempo fa per x motivi magari vi dirò in un altro video non so perché andrea mi diceva dai mettiti su prova allora eravamo sulla 911 gt3 su monza e sì effettivamente è interessante come come simulatore e chissà magari ci faccia un pensierino però il fulcro della discussione è un po quello che è successo in questi in questa giornata oggi andrea mi ha portato sul circuito di vanano de menegari autodromo riccardo paletti e oggi c'erano un giornata due ruote c'erano 125 250 due tempi due tempi quindi il suono profumo profumo della miscela perché andrea è commissario di gara o marshall quindi ha delle conoscenze quindi abbiamo avuto un po di facilità a entrare però ti vedo bene anche te come marshall perché hai sbandierato bene sì ho avuto l'onore di sbandierare sulla fine di una sessione di pratica alla bandiera scacchi non è cosa mia che l'ho sbandierato tipo vabbè non importa però sì ho avuto dei piccoli bonus che normalmente da utente normale non hai ma grazie andrea e le sue conoscenze insomma sono andato in sala monitor direzione di gara sono andato pad insomma ho fatto tante foto e poi apprezzare comunque le gare in live è sempre qualcosa di particolare grazie andrea che mi oggi mi ha fatto vivere questa giornata insieme alla mia piccola famiglia è qualcosa che che mi tocca molto e quindi grazie andrea faccio una domanda ti è piaciuto l'autodromo sì che mi è piaciuto mi è piaciuto tantissimo allora quello che mi come ti dicevo quello che mi che mi è piaciuto di più è il fatto che intanto sti profumi perché sono profumi ragazzi chi è appassionato di moto di motori è un profumo il fatto di quando entri già sei immerso in questa sei messo in situazione di gara di competizione nel modo che sgasano la gente sta lì a smontare le ruote metto l'olio metto la benza tutti i paddock esterni gli expo poi entri e subito senti il rumore perché sei la pista è praticamente lì subito a 30 metri cioè entri parcheggi hop pista e poi li senti girare poi sali sugli spalti e cominci ad apprezzare un attimino gran parte del circuito 70 per cento lo vedi bene 70 per cento gli spalti centrali poi dopo ti muovi è la fortuna di muoversi liberamente senza dover tornelli da pagare mica a pagare e poi si va gratis a varano ragazzi poi tutta la ridirezione di gara sono gentilissimi non è che erano obbligati però sono stati gentili tutti lì si vai noi emiliani siamo ospitali ecco quindi andate da andrea che si mangia benissimo però se siete più alti di un metro e cinquanta occhio occhio perché non so se non si riesce a vedere ma ha dovuto mettere le basso la bandella la bandella perché ieri sono entrato in camera qui e ping ho preso una tramvata che ancora mi fa male ci deve avere un bernoccolo insomma ragazzi qui si è stata veramente una giornata molto molto bella io proseguo domani il mio viaggio in direzione terronia che vado a raggiungere la mia famiglia vado a mare spero di abbronzare un pochettino poi ritornerò qui in romagna emilia in emilia per fare per fare una una toccata e fuga giusto per per la dormita e poi per ripartire poi su in francia ma da qui a lì passeranno tre settimane quindi tre settimane di ferie buone ferie buone ferie si però se venite in romagna e dai io in emilia giusto emilia se venite in emilia è in romagna però noi emiliani ci teniamo a dire emilia ed è la bassa se venite qui dimenticate la dieta perché si mangia benissimo e si mangia tanto 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 sabato e domenica niente dieta lunedì a venerdì dieta feria però sabato e domenica si e si beve è che si beve mamma mia si beve infatti c'è un po' e dopo l'abuso di alcol ragazzi non bevete formula 1 si tra mezz'ora c'è la formula 1 dopo quindi dopo si beve quindi lasciamo comunque un pensierino rispetto a iRacing perché non è da tanto che non ne parliamo sul nostro canale di youtube ma in realtà gli aggiornamenti che sono stati fatti a livello anche di grafica credo che si sono migliorati tantissimo rispetto all'inizio quindi gira su browser è un qualcosa di molto interessante è un sistema che comunque cavolo fa girare un simulatore su un browser non è cioè tecnicamente sono stati bravi ne parleremo in modo approfondito penso in un video dedicato per riprendere la storia iRacing è un work in progress questo qua è più una specie di vlog da mezzo ubriaco perché ancora magari lo taglio questo qua non lo so poi vedremo vabbè si no possiamo fare tipo tutta la roba sull'alcol non è che gliela metto su ecco la cipolla che sai che non ho dici di rito le cipolline se faccio un frutto qua ti cadono i due capelli che il monitor è da giù da crepa quindi ragazzi grazie per averci seguiti ancora una volta se non l'avete fatto iscrivetevi tanto è gratuito se vi va lasciate un pollice in su un commentino e ci vediamo alla prossima grazie ad andrea ancora una volta per avermi ospitato prego e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao